Internet Festival, forme di futuro. Volevo farvi vedere soltanto un paio di dati di questa indagine che abbiamo fatto per l'Internet Festival e sui diversi temi, dei diversi eventi tematici che ci saranno in questi giorni. Perché appunto quando si parla di argomenti complessi può essere interessante vedere poi cosa ne pensano magari anche che umori ci sono nella società riguardo a queste cose. In particolare mostro un paio di dati sul rapporto tra informazione, social network e informazione tradizionale. Giusto un paio di dati. Domande molto secche abbiamo fatto, giusto per vedere un po' come si può spaccare l'opinione pubblica su certi temi. I giornali e i telegiornali sono migliorati con l'avvento dei social. C'è una maggioranza di persone che sostiene che siano peggiorati e una minoranza che siano migliorati e un cui uno su cinque non saprebbe esprimersi. I motivi per cui sarebbero migliorati sono appunto che devono venire più incontro grazie alla forza dei social e all'interesse dell'opinione pubblica oppure che comunque è possibile in qualche modo usufruire di contenuti inediti, più interessanti. Però la maggior parte dice che sono peggiorati perché c'è una sorta di concorrenza, vedono nel rapporto con i social network, perché hanno troppa fretta di dare le notizie oppure perché sono in balia, secondo loro, delle reti e dei suoi contenuti virali. Quindi questo è un primo dato che ci ha colpito abbastanza. Faccio vedere da un altro punto di vista. La possibilità di condividere immagini sui social network, con i smartphone, eccetera, i filmati, sono uno svantaggio per chi poi cerca di usufruire di questi contenuti. Anche qui c'è una spaccatura, c'è una maggioranza che vede uno svantaggio, in questo, una minoranza che vede invece un miglioramento. Si possono vedere con i propri occhi eventi che prima sarebbero rimasti nascosti. Si evita la censura. Però molte persone dicono che invece le informazioni dei social non hanno una buona qualità, che comunque quello che viene dai social deve essere filtrato, elaborato da figure professionali che almeno ha una certa competenza di professionalità, e soprattutto che chi posta le cose sui social è mosso da uno spirito di esibizionismo, di mettersi in mostra e basta. Ultimo dato che ci sembrava interessante, questo, visto che se ne è parlato in questi mesi abbastanza, il fatto di far imbalzare sui social e telegiornali le immagini appunto di attentati e di tragedie che soprattutto negli ultimi anni hanno colpito anche l'Occidente Oriente. molti dicono che è sbagliato, anche se la percezione è che ci sia una corsa all'accapararsi queste immagini, a diffonderle, una maggioranza dice che è sbagliato perché appunto esaltano gli attentatori e chi cerca di imitarli. Una maggioranza invece dice che è giusto perché appunto bisogna sapere cosa succede in giro. Io, vista la scaletta, non mi dilungherei a interpretare questi dati, i sociologi parlano tanto di solito, ma lascerei invece questi dati così un po' nell'alleggiare, magari come stimolo per chi verrà a parlare dopo di me. Vi ringrazio molto e vi invito, se volete, perché ci piacerebbe confrontare il dato nazionale con il dato dei partecipanti al festival. Quindi se voi andate su questo link, svg.it barra if16, oppure cercando questo codice QR che in giro nel festival lo troverete, potete partecipare al questionario su anche questo tema e gli altri, e poi i risultati verranno restituiti attraverso un web documentary fra qualche mese che troverete sul sito. Internet Festival. Forme di futuro.